Nessuno penso che lascia a casa sua perché uno un giorno si alza Ci sono dei motivi dietro Io ho lasciato mio moglie e due figli Quando la guerra si è iniziata non possiamo andare fuori e comprare qualcosa Io ho preso moltissimo quello che ho preso in Italia Magari quando c'è qualcosa che non va non scleriamo subito Se tornavo indietro loro mi avrebbero ucciso Grazie a tutti Grazie a tutti